Quattro! Quattro! Grazie a tutti! Un po' sconsolato il fattisco. Scusa, va bene anche il giro per piazza così. Noi andiamo a trovare qui, poi andiamo a trovare qui. Ah, giù, 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 perfetto, perfetto. E' quello il grave, è quello il grave. Noi non lo volevamo dire, ma la risultata era quella. Hai sentito cosa detto? No, ma io mi sento anche normale così. E' questo il grave. Vai, vai, passa la calovana! Grazie. 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 No, no, perché è qui, è qui, è qui, è qui. Grazie a tutti.